La verità esiste fin dall'inizio ed è seminata ovunque. Molti la vedono, ma pochi la raccolgono. La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e immagini non la si può afferrare in altro modo. Sono detti scoperti 60 anni fa nelle sabbie del deserto egiziano e attribuiti a Gesù. Quale enigma si cela dietro a questo volto? Che cosa ha detto veramente Gesù durante la sua breve apparizione terrena? Nel dicembre del 1945 a Nag Hammadi, nell'Alto Egitto, un contadino arabo scavò una giara di terracotta che conteneva 13 volumi di papiro relegati in cuoio. Sua moglie ne usò alcuni per accendere il fuoco. non avevano un'idea dell'importanza della scoperta. Col tempo i papiri finirono sul mercato nero dei trafficanti di antichità del Cairo. Il governo egiziano riuscì, in circostanze molto movimentate, a comprare uno dei codici e a confiscarne altri. Ma cinque testi straordinari furono contrabbandati fuori Egitto e messi in vendita negli Stati Uniti. I papiri risalivano ai primi secoli dell'era cristiana. Vi era anche una raccolta di Vangeli cristiani primitivi ancora ignoti che attribuivano a Gesù parole diverse da quelle contenute nei quattro Vangeli del Nuovo Testamento. La scoperta dei manoscritti di Nag Hammadi i manoscritti copti di Nag Hammadi fornisce uno sfondo sulle prime tappe dello sviluppo del cristianesimo. I manoscritti di Nag Hammadi appartengono al IV secolo in quanto manoscritti però ci testimoniano testi che sicuramente sono più antichi e possono risalire addirittura al II secolo. Addirittura qualche cosa potrebbe risalire alla prima metà del II secolo e quindi addirittura essere contemporanei alla redazione filana del Nuovo Testamento. E alcune tradizioni potrebbero essere anche contemporanee alle tradizioni del Nuovo Testamento. In questo sfondo tutta la tradizione delle origini del cristianesimo del suo primo sviluppo viene riletta in un quadro estremamente complesso estremamente vario perché ciò che emerge è la complessità del quadro religioso del quadro sociale del quadro spirituale del tempo. Prima della scoperta dei testi di Nag Hammadi ciò che si conosceva dell'agnosi era dato da pochissimi testi molto spesso di frammenti di testi per lo più arrivati a noi tramite le critiche tramite Alessandrino ed altri ancora che si servivano di questi per confutare le tesi gnostiche. Quindi se da questi si poteva avere un'idea generalissima di che cos'era l'agnosi e anche l'agnosticismo difficile era comprendere esattamente la portata dei documenti anche in relazione alla figura di Cristo anche in relazione alla predicazione di Cristo anche in relazione a quello che l'agnosi ha significato per il cristianesimo primitivo. Poi c'è stato Nag Hammadi quasi un caso curioso della storia quasi di sincronismo junghianamente parlando nel momento in cui la secolarizzazione stava dilagando nel mondo è nel mondo dalle lontananze abissali del pozzo del tempo come diceva Thomas Mann emergono questi documenti racchiusi in una giara quasi fosse il tesoro di Aladino una cinquantina circa spiegandoci cose intuite presagite dai microtesti che ci erano arrivati ma non nello loro interezza. Testi che confermano in parte quello che si sapeva testi che invece aprono delle prospettive anche sconvolgenti talora anche e a torto romanzate su quello che poteva essere la figura di Cristo su quello che poteva essere il messaggio cristiano su quello che poteva essere un'alternativa o un parallelismo al cristianesimo tradizionale e anche forse un'immagine di uomo un po' diversa da quello che bene o male il cristianesimo ci ha tramandato. Da sempre terra d'accoglienza per gli israeliti l'Egitto ha un ruolo importante nella storia biblica. Qui viene condotto il piccolo Gesù per sfuggire alla strage degli innocenti. Secondo la tradizione copta Gesù rimarrà in Egitto per tre anni e mezzo. La storia e l'archeologia non possono in alcun modo documentare la realtà di questo soggiorno ma la valle del Nilo divenne ben presto il centro del cristianesimo nascente. Oggi la maggior parte delle chiese e delle catacombe sono state distrutte ma qua e là nel deserto è ancora possibile scorgere qualche traccia paleocristiana. Molti studiosi ritengono che esistesse una raccolta originaria delle parole di Gesù chiamata Cook dal tedesco Quelle fonte di tutti i Vangeli successivi quelli canonici e quelli gnostici. È ormai certo che i Vangeli del Nuovo Testamento non sono stati scritti dagli apostoli che erano probabilmente analfabeti e neppure da altri contemporanei di Gesù. I Vangeli sono un insieme di racconti e storie che circolarono per decenni nell'impero romano prima che alcuni cristiani eruditi li raccogliessero sotto forma scritta. I nomi degli apostoli furono aggiunti dai cristiani nel secondo secolo per sostenere l'origine apostolica dei testi. Molti detti di Gesù che gli studiosi ritenevano tarde invenzioni o rielaborazioni di tipo gnostico erano accolti con piena fiducia dai cristiani fino al quarto secolo quando la Chiesa finì per vedere solo nei quattro Vangeli la voce autentica di Gesù. In realtà Gesù non ha lasciato niente di scritto c'è un passo del Vangelo in cui si dice che traccia dei segni sulla sabbia non si dice cosa abbia tracciato magari era solo un diversivo ma certamente non ha lasciato però ha parlato e ha detto parole fondanti fondamentali e queste parole sono state trasmesse in vari modi già gli stessi Vangeli canonici in realtà ci trasmettono le parole in modi differenti e poi nei Vangeli apocrifi abbiamo nuove versioni che testimoniano che il messaggio di Gesù in realtà ha proliferato e ha seminato in ciascuna anima in maniera differente già fin dalle origini anche perché anche i primi cristiani venivano da provenienze diverse c'erano dei sacerdoti c'erano dei farisei Paolo c'erano probabilmente degli esseni e quindi a loro volta gli ascoltatori gli mettono dentro qualcosa di loro e trasformano continuamente quindi è un processo continuo e poi c'è la storia della chiesa c'è la storia di una religione che è millenaria e nel corso della storia ha accumulato interpretazioni e ha assorbito dalla storia stessa e senza Nei monasteri del deserto si prega in copto la lingua dei cristiani egiziani Gesù parlava un dialetto aramaico non è certo che sapesse scrivere sicuramente leggeva l'ebraico antico nei primi secoli c'erano molti profeti e molti vangeli i quattro vangeli canonici non contengono sempre i detti più antichi di Gesù la predicazione la predicazione e l'azione di Gesù avevano generato molti diversi gruppi che ebbero ciascuno una diversa immagine del maestro e tramandarono in modo differente le sue parole e la sua vicenda troviamo diversità tra paolinisti giacobini nazareni giovannisti e bioniti e altri ancora troviamo diversità tra le chiese di Gerusalemme quelle palestinesi siriache ed egiziane non solo non esiste nessun vangelo nel testo originario ma non esistono nemmeno più le prime trascrizioni ci sono soltanto copie di copie di copie trascrizioni di manoscritti greci di traduzioni latine siriane copte si contano circa 5000 manoscritti greci del nuovo testamento non ce ne sono due con l'identico testo le parole di Gesù subirono dunque molteplici mutamenti spontanei o intenzionali generando un'immensa giungla di varianti aggiunte omissioni in contrasto tra di loro da secoli schiere di studiosi esplorano le possibili concordanze nei testi facendone risuonare le verità profonde noi sappiamo dalla tradizione degli ereseologi che nel secondo secolo ci sono figure come basilide o valentino che sono verosimilmente i primi grandi teologi cristiani e che la teologia della grande chiesa la teologia ortodossa in qualche modo è stimolata a svilupparsi proprio in risposta a queste speculazioni a volte misticheggianti a volte un po' intellettuali comunque è una risposta allo sviluppo della teologia gnostica questo è abbastanza evidente prima non c'era questa esigenza e i primi grandi intellettuali della chiesa sono verosimilmente questi gnostici dopodiché c'è la risposta e questo ci testimonia un quadro di nuovo complesso complesso soprattutto perché in tutti questi manoscritti abbiamo l'espressione di tendenze diverse abbiamo manoscritti appunto si dice settiani valentignani barbello gnostice e che testimoniano che esiste un quadro di quello che chiamiamo gnosticismo in cui c'è questo desiderio di ricevere un'illuminazione l'agnosi da parte della divinità suprema una divinità che è nascosta che è un po' sconosciuta c'è questo senso di un mondo che è una prigione che è oscuro però in questo mondo oscuro ci sono dei germi di luce e questi germi di luce sono nascosti nell'anima dell'onostico nella visione gnostica siamo gocce di luce fatte scendere da sofia la manifestazione femminile dal mondo della luce al mondo del caos dove le scintille sono avvinte dalle catene dell'oblio il salvatore è venuto qua giù dal plerma dalla pienezza della manifestazione divina per liberare queste scintille vestarle dal sonno strapparle al mondo materiale nei vangeli gnostici il salvatore racconta che quando scese in incognito per liberare le gocce di luce attraversò un temibile luogo di mezzo infestato da potenze negative animate da bramosia ira e ignoranza il salvatore conduce l'anima alla perfezione per opera dell'agnosi della conoscenza ogni gnostico dopo aver preso coscienza di se stesso ritorna alla sua radice che è divina la goccia di luce si unisce alle altre scintille disperse e ricostituisce l'anima mundi il regno della luce l'agnosi è una dottrina fondata lo dice l'etimo greco stesso sulla conoscenza una conoscenza un po' particolare però è una conoscenza che non è razionale anche se non rifiuta la ragione è sostanzialmente una conoscenza intuitiva noi diremmo oggi con un linguaggio borderline con la psicanalisi una conoscenza del profondo del profondo dell'uomo e del profondo della realtà che si attua tramite l'intuizione ma soprattutto si attua tramite la coincidenza tra il conoscente il conosciuto e il mezzo della conoscenza in questo senso è una cosa particolarmente originale in cui si combina appunto la ragione e l'emotività è in un certo senso la prefigurazione di quella totalità che è il centro vero Gesù poi per certi versi ed estremamente umano e anche molto trasgressivo rispetto non solo alla legge dell'Antico Testamento e qui si apre tutto il discorso sulla critica agnostica al Dio dell'Antico Testamento ma anche trasgressivo oggi rispetto a certi modelli ingessati dei rapporti umani è il Cristo che non esita a compiere quello che ciascun uomo compie trovando però basta pensare ai rapporti con la Maddalena a cui fanno cenni i Vangeli Gnostici in cui però trova la via per arrivare a una totalità e non per fermarsi alla pura e semplice umanità certo è un Cristo come dice la tradizione gnostica che non soffre sulla croce il suo messaggio la sua esperienza terrena si ferma alle soglie della croce o meglio la croce diventa un simbolo limite della sua esperienza la Maddalena è una figura centrale in molti testi gnostici c'è un Vangelo di Maria ma la Maddalena compare anche nel Vangelo di Apocasillisse di Pietro compare nel Vangelo di Filippo compare in vari testi questa Maddalena è una figura è una figura intricata perché perché già nel Nuovo Testamento a volte le figure sono accennate a volte a volte c'è un nome a volte non c'è un nome comunque nel Nuovo Testamento ci sono più Marie poi ci sono anche delle figure innominate a un certo punto nel corso della tradizione alcune di queste figure vengono fuse insieme la Maddalena degli Gnostici è una figura che appunto probabilmente fondi insieme più persone perché a questa ma non solo la Maddalena anche la Madre Maria la Madre Gesù anche altre altre donne hanno una importanza centrale nell'ognosticismo ma in qualche modo già nel Nuovo Testamento bisogna ricordarlo le persone che annunciano la Ressurrezione sono le donne il Vangelo di Maria papiro agnostico greco è dedicato interamente alla Maddalena il suo nome è posto alla fine secondo la consuetudine letteraria copta nel mondo che gravita attorno a Gesù questa donna occupa una posizione di primo piano in diverse circostanze suscita l'invidia degli apostoli perché il maestro l'ama più di tutti loro nel Vangelo di Filippo si annota il Signore amava Maria Maddalena e spesso la baciava sulla bocca il bacio in realtà se noi prendiamo se noi prendiamo alcune epistole del Nuovo Testamento una delle formule una delle formule di saluto dice baciatevi con bacio d'amore e il segno scambiatevi un segno di pace una edulcorazione un po' una eufemizzazione del bacio d'amore che sta nelle cerimonie nelle cerimonie eucaristiche della Chiesa Primitiva certo amore agape però è un bacio non è una stretta di mano si può come dire disquisire su cosa significava un bacio all'epoca ma sicuramente rappresenta un gesto di amore un gesto di amore che al di là degli sviluppi su cui si sono sprecate veramente biblioteche amava carnalmente la Maddalena l'amava simbolicamente era l'immagine della Chiesa non della Chiesa secondo la tradizione evidentemente canonica che in fondo è Maria l'immagine della Chiesa la Chiesa in senso gnostico io credo che tutto questo è irrilevante nel bacio che Cristo dà alla Maddalena che non dimentichiamo che era una peccatrice c'è l'immagine di questa totale riconciliazione del mondo di questo totale superamento delle differenze e delle divisioni anche quelle che passano nella carne c'è l'immagine di un Cristo uomo ma proprio per questo uomo con un maiuscolo profondamente divino quello che non esita a baciare sulla bocca una peccatrice non per compiere un peccato che è irrilevante ma per dimostrare che un bacio può salvare il mondo l'agnosi è un'acuta espressione dell'angoscia dell'esistenza umana di ogni tempo rappresenta un intimo e personale bisogno di trascendenza la necessità di trovare risposte alle eterne domande della vita chi siamo da dove veniamo dove andiamo il mondo gnostico era diviso in tre categorie a livello più basso si situavano gli ilici gli uomini dominati dalla materia nei quali non vi è nulla di divino e che sono sordi a qualsiasi richiamo alla seconda categoria appartengono gli psichici per gli gnostici erano i cristiani comuni e coloro che intuiscono l'esistenza di qualcosa di diverso a livello più elevato sono i pneumatici coloro che si sono messi in discussione e hanno iniziato la ricerca del dio nascosto nel mondo antico era diffusa la sensazione che un giudizio divino fosse imminente occhi grandi e tristi increduli per quello che sta per accadere ci guardano dalle effigi sepolcrali dei primi secoli la fede della fine imminente è continuamente testimoniata nel giudaismo dai profeti e dagli esseni che annunciano la catastrofe del mondo per la generazione presente in modo del tutto analogo a quanto faranno poi i vangeli le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno squassate la luna non darà più il suo chiarore e il sole si oscurerà vi saranno terremoti e carestie questo è soltanto l'inizio del parto Gesù si illuse nell'attesa dell'imminente fine del mondo i primi cristiani considerarono la promessa dell'imminente regno di Dio come un tratto caratteristico del messaggio di Gesù un'immane catastrofe e la discesa di Dio dal cielo doveva provocare una totale trasformazione di tutte le cose terrene oggi numerosi studiosi ritengono che Gesù con l'espressione regno di Dio non intendeva un paradiso soprannaturale ma che al contrario lo voleva portare sulla terra abolendo fame e sete violenza e ingiustizia molti suoi seguaci gli avrebbero volto le spalle delusi quando capirono che il regno non era di questo mondo sono ricerche che mettono in luce continuamente come quello che noi diamo per certo sia una certezza illusoria noi prima della scoperta dei manoscritti di Qumran pensavamo che di conoscere tutto avevamo questi esseni delle fonti e pensavo è forse chiaro ma non avevamo la documentazione diretta di queste persone e già questo era interessante una documentazione che era scomparsa avevamo gli apocrifi dell'antico testamento trasmessi dai cristiani in traduzioni etiopiche slave e greche questi ci hanno dato gli originali originali che in alcuni casi ci hanno detto che alcuni testi che qualche studioso voleva datare nel primo secolo addirittura nel secondo secolo dopo Cristo erano del secondo secolo avanti Cristo alcune alcune parti di Enoch o addirittura erano più antichi quindi hanno capovolto in alcuni casi delle cose date per assodate da alcuni studiosi e qualcuno intuiva che non erano così però il consenso andava più no ma sono cose tarde due secoli prima ha capovolto una serie di e man mano che si leggono questi testi ci si accorge che l'interpretazione continua a cambiare anche perché questi testi sono frammentari si riescono a tradurre ma una volta tradotti mi ha detto che si capiscono veramente e poi c'è un frammentino che sembra che appartenga a un manoscritto poi ci si accorge che probabilmente si può collegarla a un altro uno dice i manoscritti ma i manoscritti sono dei collage in alcuni casi di centinaia migliaia di frammenti e noi a volte leggiamo una traduzione o leggiamo una riproduzione anche dei testi che li mette in ordine ma quest'ordine è fasullo ha spesso è casuale ci sono dei criteri ma non è mica così certo e quindi affinando le cose possiamo ricollocare cambiare la collocazione dei frammenti e cambiare la lettura dei manoscritti e quindi continua a cambiare e questo ci dice che i testi che abbiamo non li comprendiamo mai fino in fondo e ogni pezzettino che si aggiunge costringe a rileggere tutto in una nuova luce i manoscritti scoperti nelle grotte di Qumran non menzionano né le figure né i fatti centrali del nuovo testamento non ci è dato sapere se Gesù faceva parte della comunità degli esseni alcuni studiosi ritengono però di aver individuato allusioni in codice a personaggi come Gesù e Paolo designati con soprannomi quali il maestro di giustizia il sacerdote impio la comunità di Qumran rivolgeva la massima venerazione al maestro degli esseni che aveva molti tratti in comune con Gesù come Gesù era considerato l'eletto di Dio ed era in aspro contrasto con la società del tempo buona parte di questi manoscritti ci parlano di persone ma la maggior parte dei casi queste persone sono anonime Morandi ha intitolato un suo libro L'innominato il maestro di giustizia è uno dei personaggi centrali di questi manoscritti compare nel documento di Damasco negli inni nei pesciarimi in questi commenti biblici però è maestro di giustizia è tutto quello che il sacerdote combatte contro è combattuto è perseguitato chi sia non lo sappiamo l'adattazione non lo sappiamo c'è qualcuno la maggioranza di studiosi lo colloca nel secondo secolo avanti Cristo c'è qualcuno che preferisce collocarlo nel primo è possibile e c'è qualcuno che si spinge a collocarlo nel primo dopo Cristo addirittura a farlo contemporaneo di Gesù e qualcuno dice che addirittura questi manoscritti parlino del rapporto fra Gesù Paolo allora da un punto di vista di una storia seria nei manoscritti di Qumran non si parla di Gesù o dei cristiani però questo non vuol dire che la loro comprensione non ci aiuti a comprendere i cristiani perché quando qualcuno dice ma c'è il conflitto fra Paolo e Gesù o c'è il conflitto fra l'ala più giudaica e l'ala che si spinge verso i gentili in realtà conflitti ci sono anche negli altri movimenti giudaici ci sono conflitti che attraversano tutto il giudaismo e attraversano i vari movimenti e nel cristianesimo primitivo abbiamo i concili il concilio di Gerusalemme in cui si cercano gli accomodamenti ma anche a Qumran litigavano c'è un testo in cui dici ma quelli che si sono separati quelli che hanno tradito il maestro e si sono allontanati è un continuo separarsi e soprattutto dove parla lo spirito nei movimenti in cui c'è una forte impronta carismatica le separazioni le scissioni sono all'ordine del giorno il maestro di giustizia ha prima di tutto bisogna specificare che non si parla della giustizia come lo intendono gli uomini la giustizia è una giustizia superiore è una giustizia che non segue né le leggi di Yaldabaoth il signore degli arconti l'immagine del dio dell'antico testamento a sua volta archetipo di tutte le leggi terrene ma della vera giustizia una giustizia quindi che non segue le regole banali della terra ma che ritiene come giustizia sempre il ritorno dell'unità il maestro di giustizia anche qui è una figura sapienziale quello che insegna gli uomini a non perseguire la giustizia di questo mondo ma perseguire la giustizia dell'altro mondo certo è una giustizia che è un po' tranciana rispetto all'idea nostra perché non è una giustizia che prevede regolamentazioni precise su che cosa significa essere giusto giusto è colui che riconosce la propria totalità per raggiungerla disprezza se è necessario anche le regole del mondo il che non significa se vogliamo riportare alla mentalità attuale il voler ad ogni costo la trasgressione per la trasgressione ma vuol dire mettere al primo posto assolutamente quello che è il proprio obiettivo ma questa è la vera giustizia Gesù degli gnostici era il Gesù dei detti non dimentichiamo che anche per esempio il Vangelo di Tommaso è fatto da detti più che da parabole o da una narrazione organica in fondo potremmo definirlo sempre con un linguaggio moderno ma serve per comprendere dei flash sapienziali il Gesù degli gnostici è un saggio è un sapiente è colui che è venuto sulla terra non per spiegare ma per illuminare è un uomo simbolo del pleroma da cui l'uomo si è staccato che vuole come dire riaccendere la scintilla che ciascuno ha dentro di sé e quindi coglie delle argomentazioni stringenti staccate spesso dai contesti per colpire direi quasi platonicamente per costringere la memoria a riattivare questa scintilla perduta e fare divampare il fuoco che condurrà l'uomo diventare essere pleromatico quindi non è un Cristo discorsivo non è un Cristo come quello che troviamo in Marco Matteo ma anche in Giovanni che pure è il più gnostico dei Vangeli cosiddetti canonici ma troviamo un Cristo che parla quasi in maniera epigrammatica con frasi brevi stringate che lasciano poco spazio a un dialogo con l'interlocutore perché lo scopo non è arrivare a qualcosa con il dialogo ma risvegliare l'uomo dormiente come nell'inno alla perla fare ritrovare la perla nascosta per riportare l'uomo con questa perla rivestito di luce al Padre Celeste al Deus Absconditus naturalmente è un Gesù quindi che in qualche modo cerca di riattivare dentro di noi la scintilla naturalmente molte volte molto spesso troppo spesso noi siamo sordi a questo richiamo e preferiamo in fondo il Cristo oggettivato il Cristo istituzionalizzato il Cristo che diciamolo francamente dà meno problemi questi sono i detti segreti pronunciati da Gesù il vivente e scritti da Didimo Giuda Tommaso se coloro che vi guidano dicono che il regno di Dio è in cielo allora gli uccelli del cielo vi precederanno se vi dicono che è in mare allora i pesci del mare vi precederanno il regno è invece dentro di voi e fuori di voi conosci ciò che ti sta davanti e ti si manifesterà non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato io sono la luce che sovrasta tutti loro io sono il tutto il tutto promanò da me e il tutto giunge fino a me spaccate il legno e io sono lì dentro solleva la pietra e là mi troverai significa che il mondo non è qualcosa di spezzato di frammentario ma è una grande totalità in cui gli uomini e il cosmo concorrono ad un unico grande obiettivo questo grande obiettivo è il ritorno all'unità in questo senso un'immagine di Cristo che si fa terra che si fa pietra che si fa uomo è un'immagine di uomo che per diventare Cristo deve farsi terra e deve farsi pietra ecco io trovo che questa immagine non solo è di una grande penetrante commozione in un abbraccio cosmico e universale ma è anche è un grande insegnamento valido nel passato come valido anche oggi indicami la pietra respinta dagli edificatori essa è la pietra d'angolo è una frase particolarmente interessante perché da un lato sembra essere contraltare con la famosa frase tu sei pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa verrebbe spontaneo dire non ci sono chiese nel senso istituzionale ma ciascuno in un certo senso è chiesa di se stesso la pietra d'angolo è ciascuno ma nel contempo la pietra d'angolo che è quella rifiutata e anche qui si potrebbe sempre interpretare un po' nella linea di che dicevo prima come lo gnostico è la vera chiesa perché è stato rifiutato e sarà in questo caso profeticamente rifiutato è colui che porta il messaggio di saggezza ma può essere anche considerato questo riferimento alla pietra d'angolo in correlazione col tema dell'ombra no il rifiuto il rifiuto della pietra è in un certo senso l'invito a stare molto attenti a tutto ciò che è rifiutato dentro se stessi rifiutato non solo perché non funziona non va bene non è corretto ma rifiutato anche perché segue le leggi del mondo o meglio rifiutato perché non va nella direzione di abolire tutto ciò che il mondo vuole per andare nella direzione giusta quindi rendersi conto di ciò che è rifiutato rendersi conto del negativo che noi rifiutiamo ma che si traduce nel positivo se lo portiamo alla luce secondo l'agnosi equivale in un certo senso a mettersi sulla strada per essere più semplici e per essere più precisi noi scartiamo moltissimo nella nostra esistenza scartiamo ciò che è negativo effettivamente ma scartiamo anche ciò che è positivo credendo che sia negativo il detto sapienziale del cristo gnostico vuole essere un invito a stare attento a non buttare come si suol dire l'acqua con il bambino ma prendere ciò che è di positivo anche se apparentemente è contro il mondo per lavorare intorno a quello l'odio per esempio riferendosi sempre a un riferimento di Cristo è un sentimento negativo il mondo lo considera tale ma Cristo parla di un odio che può fruttificare se un odio che si appunta a ciò che è sbagliato a ciò che frappone l'uomo dalla sua vera vita a ciò che frappone l'odio dalla vera conoscenza odiare quello significa come dire raddrizzare la barra del timone e mettersi sulla strada giusta allora la pietra il rifiutato diventa la pietra angolare di un uomo nuovo diventa la pietra di una chiesa interiore tre dei quattro vangeli canonici tacciono sulla presunta fondazione della chiesa soltanto il vangelo di Matteo attribuisce a Gesù in due occasioni questo termine ma sembra che Gesù facesse riferimento alla comunità dei credenti non a un'istituzione attuale o futura sicuramente non era un predicatore nel senso come è inteso oggi il termine ma non solo oggi anche nella tradizione medievale e anche come nella tradizione del primo cristianesimo non era un personaggio che voleva in qualche modo costruire un seguito non era un personaggio che voleva costruire una chiesa era secondo me un personaggio che voleva portare nel mondo la divisione e fin qui troviamo anche questo concetto espresso anche nei vangeli canonici ma soprattutto una divisione che servisse a costruire un'unione e un'unità era un sapiente un saggio per molti versi crudele nei confronti degli uomini in cui la parola crudele non significa ovviamente cattivo ma crudele nel sottolineare i loro limiti nel far vedere ciò che avrebbero potuto essere ma nel contempo dolce e generoso almeno per coloro che erano disposti ad accettare il messaggio d'altronde l'immagine del Cristo che dice che sono venuto in fondo affinché voi odiate mi pare che lo dice nel Vangelo proprio di Tommaso i vostri genitori quando però in qualche modo vi impediscono di essere quello che siete rende bene l'idea di un Cristo di un Cristo scomodo di un Cristo che non è accondiscendente di un Cristo che non è benevolo quando non è necessario di un Cristo che non esita a utilizzare parole dure parole forti parole che scandalizzano anche tra virgoletti ben pensanti di ieri ma anche di oggi se leggiamo i Vangeli Gnostici perché il suo scopo non è quello dell'edificazione ma quello della costruzione della costruzione di un ritorno di un percorso nei Vangeli Gnostici torna spesso il pensiero dell'unità primordiale delle due scintille che si uniranno alla fine alla pienezza della manifestazione divina allorché di due farete uno allorché farete la parte interna come l'esterna la parte esterna come l'interna e la parte superiore come l'inferiore allorché del maschio e della femmina farete un unico essere che non è più né maschio né femmina allora entrerete nel regno Allora questa frase è stata mal interpretata è stata mal interpretata dai commentatori dagli esegeti ovviamente in negativo della grande chiesa vedendo in questo una via verso il libertinismo gnostico c'è tutta una tradizione probabilmente c'è stata anche se su questo abbiamo documenti di scarso rilievo che ha visto tutta una via cosiddetta della mano sinistra dell'agnosi che in disprezzo delle leggi del mondo ha praticato anche il libertinismo quindi unioni libere e anche contro natura per riaffermare il disprezzo del mondo e invece la verità di una rivelazione superiore in questo mettendosi su una linea curiosamente per esempio con la tradizione tantrica per molti aspetti ma io non credo che questo sia il significato fermo restando che ciascuno lo può interpretare come vuole il problema maggiore è che Cristo con questa frase vuole stabilire che l'uomo non può che essere uno ma detto questo si tratta di vedere come allora la prima cosa che viene in mente è che l'uomo che deve essere maschio e femmina vuol dire e qui utilizziamo pure ampiamente gli strumenti interpretativi junghiani che deve integrare la parte del femminile la componente femminile di se stessa sarebbe troppo banale pensare che un atto sessuale in cui l'uomo incontra la donna risolve il problema questo era noto dei tempi immemorabili anche se l'atto sessuale può essere un simbolo di questo ma non è sicuramente questo perché un uomo può avere un qualsiasi rapporto con una donna e non riuscire assolutamente a raggiungere la totalità se non ha una disposizione dello spirito la disposizione dello spirito significa anche se uno compie l'atto sessuale e uso questa questa metafora proprio per dare meglio il senso se non ha dentro di sé quella sensibilità prettamente femminile che lo fa avvicinare all'altra persona in spirito atto a comprenderla quindi Cristo voleva dire riaccompagniamo i contrari alla loro unità ma per far questo bisogna superare tutti gli ostacoli che ciascuno pone a superare se stesso perché ciascuno il maschio pretende di essere assolutamente sicuro di se stesso e della sua identità non sa che una corretta identità passa solo per aver recuperato la parte maschile che significa sensibilità si significa emotività significa affetto significa disponibilità significa passività anche nel dare a fronte della sua attività nel dare della sua razionalità del suo senso logico e di tutte quelle caratteristiche che sappiamo essere del maschile solo così c'è un'unità ma noi dobbiamo imparare a percepire anche un'unità non solo nella congiunzione dei caratteri ma in ciò che è alto e in ciò che è in basso come diceva la tavola smeragdina attribuito ermete trimegisto perché la realtà è una cosa sola fatta di tante sfaccettature di fronte alle innumerevoli sfaccettature del messaggio di Gesù non rimane che l'umiltà della ricerca pazienza straordinario qui ora volendo dovrebbe bagnare un po' per evitare che si spezzi sì però se si fa piano 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 con queste pinzettine tonde non c'è bisogno neanche dell'acqua che poi comporta la necessità di asciugarlo colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato cercate e troverete colui che cerca troverà e a colui che bussa sarà aperto l'ultima parola riscoperta ha solo un valore provvisorio gli studiosi non fanno che trovare nuovi risultati via via modificati e sempre rivedibili di una ricerca mutevole che riprende sempre da capo e dipende da una passione continuamente rinnovata il caso la fortuna potranno portare a nuove scoperte nelle sabbie del deserto o nelle cantine dei monasteri queste monache queste monache nascondono i loro tesori dalla cupidicia dei trafficanti d'arte che strappano e rivendono a caro prezzo le pagine degli antichi manoscritti e portano via le sacre iconee per altre comprensibili ragioni celano i tesori anche ai ricercatori e alle autorità museali del loro paese la conoscenza delle parole di Gesù rimarrà forse per sempre frammentaria gli stessi vangeli canonici assomigliano in fondo ad una raccolta di frammenti dei quali in perpetuo siamo intenti ad integrare il senso coltivando l'amore delle ipotesi il gusto del dubbio l'idea di una verità perpetuamente inseguita e perpetuamente nascosta il discorso dei detti di Gesù è un discorso lungo e complesso che da un lato da un lato impegna i filologi allo spasmo abbiamo i grandi studi di Bultman gli studi gli studi di Konz tutta una serie di studi abbiamo la famosa scuola del del Jesus Seminar il seminario di Gesù a scuola americana in cui hanno preso il Nuovo Testamento ma anche i testi ad esempio di Tommaso altri testi altri detti Gesù non canonici e li colorano in varico io sono datonico e non li capisco queste cose perché mi confondo però usano 50 colori differenti per i gradi di probabilità di ogni singolo detto in alcuni casi è vero noi possiamo utilizzare dei criteri ma in realtà questi criteri sono sempre fallibili San Paolo in una frase dice videmus per speculum in enigmate vediamo nello specchio attraverso lo specchio ciò che può essere enigmatico ricorda molto il simbolo perché il simbolo è un enigma la verità di cui parla il Vangelo di Filippo è una verità simbolica ma il simbolo è un enigma perché noi sappiamo che il simbolo ha un aspetto materiale e un aspetto che non è materiale un aspetto che è trascendente utilizzare il simbolo significa andare oltre il suo aspetto concreto ma trovare ciò che di spirituale c'è nella concretezza allora il riferimento di Filippo sapienziale anche esso è l'invito delle persone prima a utilizzare i simboli ed è una cosa di sconvolgente attualità noi viviamo in un mondo che è tutto in tessuto di simboli ma gli uomini non li utilizzano semmai sono utilizzati dai simboli spesso anche manovrati utilizzare il simbolo significa aprirci a un linguaggio nuovo il linguaggio dell'ognosticismo riferito evidentemente a questa tradizione ma non solo a questa tradizione utilizzare il simbolo per esempio il simbolo dell'uomo pneumatico significa capire che cosa significa il soffio il soffio rimanda al vento il vento è sempre qualcosa di divino il vento è quello che prende gli uomini tutti abbiamo sperimentato il vento della primavera quando la primavera si fa sentire è quel vento profumato e dolce che ci avvolge completamente ecco è il simbolo secondo una tradizione gnostica liberamente interpretata in questo senso di quello che è il pneuma divino è come il vento della primavera che allontana dagli odori del mondo e riporta invece a una totalità unica il pleroma che è quello a cui l'uomo deve aspirare allora utilizzare il simbolo utilizzare l'immagine significa non accontentarsi della realtà ma andare oltre certo questo era uno dei grandi luoghi di scontro con la tradizione della Chiesa della grande Chiesa perché se uno interpreta Cristo come simbolo evidentemente esclude tutto l'aspetto storico il simbolo non è mai storico esclude il problema della risurrezione dei corpi come un fatto reale e lo trasferisce in un fatto simbolico che non è meno importante e quindi entra in collisione con i presupposti stessi della costruzione seppure straordinaria della grande Chiesa e soprattutto l'importante è che c'è un discorso di una pluralità di riflessioni dei detti di Gesù che si rifrangono nei discepoli e ci danno altrettante 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 luci sono come gli specchi attraverso i quali si riflette le noie alla sapienza superiore il problema è di non confondere lo specchio con la luce vera è un labirinto del resto l'immagine del labirinto la ritroviamo in alcuni testi anche cristiani e il tratto qua Bavia è stato ritrovato in una delle chiese storiche di Bavia San Michele quando c'è stata la riforma liturgica e hanno spostato gli altari dall'altare massiccio barocco che c'era sopra San Michele è uscito fuori sotto salvato proprio dall'altare barocco il residuo di un labirinto labirinto immagine della via del cristiano per raggiungere la verità mi ha sempre colpito una frase molto bella e molto interessante di Jung che per certi versi era sicuramente un grande studioso dell'agnosi lo sappiamo tutti e con l'agnosi aveva una grande empatia Jung dice nell'epoca grosso modo secondo primo secolo prima di Cristo primo secolo dopo Cristo ce n'era un sacco di Messia ce n'era una quantità c'era un'inflazione di Messia però uno solo si è affermato Jung dice perché l'inconscio collettivo aveva la necessità di assorbire il messaggio di quel Messia perché quel Messia più di ogni altro rispondeva alle esigenze dell'inconscio collettivo noi potremmo dire che anche i codici di Nag Hammadi rispondono alle esigenze di un mondo moderno che ha sete di verità una verità diversa una verità complessa difficile l'uomo pneumatico è un uomo difficile però ha bisogno di quello forse tra virgolette questo inconscio collettivo metafora di un destino o metafora di qualcosa d'altro di una volontà providenziale di un eone per usare un termine gnostico che dal plerum è venuto a dare un altro messaggio ma qui siamo nel congetturale e quasi nel ridicolo ha voluto che si scoprisse questi testi ha voluto che gli uomini ricapissero un'antica dottrina non per seguirla pedissequamente ma per adeguarla alla nostra esigenza di un'antica dottrina di un'antica dottrina